Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video pre-partita per il Napoli. Domani sera il Napoli ospiterà il Monza nella gara a Valda per la sesta giornata di Serie A. Ma prima io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a condividere il video e a lasciare tantissimi piace se il video vi dovesse piacere. Inoltre cliccate sulla campanellina per ricevere sempre aggiornamenti e in descrizione troverete tutti gli altri miei social Twitter, Instagram e Twitch. Instagram mi raccomando seguitemi su Instagram perché sono molto attivo o quantomeno sono attivo soprattutto quando vi pubblico le cose, quando esce il video, quando vado in live. Ok, quindi seguitemi lì e oggi in live saremo dalle due e mezza perché vedremo l'Inter, vedremo la Juventus e vedremo l'Atalanta. Sia per gustarci un po' il calcio, sia per tifare i nostri giocatori del fantacalcio e sia perché no per gufare, perché gufare è d'obbligo. Ok, poi abbiamo un gol domani, probabilmente sì, però gufiamo e ci divertiamo perché non è che ci mettiamo la maglia dell'Udinese per gufare all'Inter. No, è normale, ok? Pertanto seguiteci. Detto questo non c'è stata la conferenza stampa dei Conti ed è giusto così ed era anche abbastanza prevedibile perché è sempre così, sempre così. Quando c'è una partita di Europa o di Coppa Italia e poi c'è poco tempo dalla fine della partita all'inizio dell'altra non si fa mai la conferenza perché il mister si vuole concentrare ma anche perché le domande sarebbero state inutili, sarebbero state ripetitive anche le risposte perché alla fine io credo che le risposte inerenti alla partita con Monza le ha date già Conte, ok? Dicendo sì, ci trattano come gli eroi ma adesso poi domenica saremo nuovamente punto a capo perché è giusto così, è giusto così. Perché il 5-0 contro il Palermo non ci deve far influenzare per niente perché non abbiamo fatto nulla con il Palermo. Nulla, grande prova di carattere, grande prova da parte e soprattutto da parte di quei giocatori che giocano poco, hanno pochissimo spazio, però non abbiamo fatto nulla, non abbiamo alzato nessun trofeo, io non mi permetterò mai di dire vincimo scudetto, vincimo capitale, vincimo tutto coso, bisogna parlare dopo, bisogna parlare a maggio perché altrimenti in quel posto e questo è un altro discorso rispetto al gufare come ho detto prima, ok? Perché gufare è divertirsi essenzialmente in live, noi ci divertiamo, per chi si vuole divertire, ok? Comunque, Monza è una partita difficile, è una partita trappola, è inutile che muo viene lo scemo di turno, ma è più scemo in Monza, tu dici le paura di Monza che è penultimo, no, non mi metto paura del Monza. Noi siamo il Napoli, abbiamo dimostrato di essere forti, di avere delle qualità, di essere intelligenti, ma soprattutto abbiamo un allenatore che motiva, abbiamo un allenatore che ha tracciato la strada, un allenatore super intelligente, per esempio con la Juventus, sapendo che affrontavi una squadra di palleggio, bastava mettere un centrocampista in più, così provavi a chiudere tutte le linee di passaggio e di fare un pressing un pochino più sostanzioso al centrocampo, ed ha funzionato, ok? Quindi ogni partita ha una storia a sé e ogni partita va interpretata in una maniera diversa, ok? Per esempio, il Monza, che affronteremo domani, essenzialmente, sì, è penultimo, sì, nelle ultime cinque partite, da inizio il Camerat ha fatto tre pareggi e due sconfitte, però ha pareggiato con l'Inter, lasciando stare che l'Inter ma ultimamente, fisicamente, mentalmente, non è al top, ok? Posso concordare, e quindi il Monza ne ha approfittato, però non è che ha pareggiato con un Inter così, il Monza è penultimo, quindi devi scendere con le ciabatte, No, devi entrare sempre motivato a mille, devi entrare sempre con la testa, quindi se dovessimo vincere, è inutile che poi dite, eh, ma era sempre in Monza, eh no, perché ogni partita non sarà a sé e ogni partita va affrontata in maniera giusta, giusta. Allora, il Monza, il Monza gioca col 3, 4, 2, 1, però, però, se andiamo a leggere gli ultimi risultati del Monza, non è che ha subito 30 gol, delle ultime cinque, eh, cioè il Monza, vaiù, il Monza, ne sta che è stato un grandissimo difensore, quindi sa curare bene la fase difensiva, ok? Il Monza ha fatto 0-0 con l'Empoli, e l'Empoli, poi sta crescendo, adesso è sesto, ok? Quindi ci poteva stare, poi, 1-0 con il Genoa, 2-2 con la Fiorentina, 1-1 con l'Inter, e l'ultima 1-2 con il Bologna, cioè, questo che vuol dire? Vuol dire che il Monza si difende bene, si difende in maniera compatta, si difende col 5, 5, 4, 1. Questo è il discorso, quindi ti spingerà, il Monza, ti spingerà ad andare sugli esterni, e sugli esterni qua, per esempio, che va la scheda, che sicuramente giocherà a lui, sarà abbraccato in mezzo a 4. Poi, un'altra cosa, in fase offensiva, perché io non penso che il Monza giocherà tutto dietro, perché altrimenti sai che Napoli spumeggiante che vedremo, no, perché secondo me il Monza qualche idea tattica offensiva ce l'avrà. E l'idea tattica del Monza, almeno a parer mio, vedendo questo modulo e vedendo Djuric, Djuric, no scusate, no Djuric, scusatevi, Djuric come punta, che è molto alto, molto fisicato, Djuric è bravo a mantenere il pallone e smistarlo, sia ai trequartisti, o mezze punte, sottopunte, o ai due esterni, oppure Djuric, palla, alla sottopunta, qua Tani Molivera, che è in un miso scema, e qua l'esterno è tutto solo, quindi bisogna stare attenti nella loro modesta costruzione offensiva, ok? Un'altra cosa, a primo sguardo, le coppie, le coppie ci sono, Politano sul difensore sinistro, Lukaku sul difensore centrale, e Kvara sul difensore destro, ok? Altre coppie, ipotizzo, ok? Poi commentate voi se tengo ragione, se tengo tutti, se di che sto usato, ok? Oliveira va a prendere l'esterno, Di Lorenzo va a prendere l'altro esterno, le coppie a centrocampo stanno qua, McTominay e Angissà stanno qua, sui due centrocampisti, Djuric qua, in mezzo a due, e Leopoldca sta solo. Nella mia, ripeto, ignorante, io voglio ripetere sempre questa cosa, perché io non sono un esperto di calcio, tengo un attestato di match analysis, ok? Però, non l'ho mai presa in maniera seria, ok? Quell'attestato, il mio futuro da match analysis, che a me piace parlare di calcio, ma non lavorare nel calcio, che non è artamì, ok? Quindi, fatemi sapere se faccio bene, ok? Io parlo per divertirmi. Mio modesto parere, Mio modesto parere, Lobotca, Angissà e McTominay, in fase di non possesso, potremmo diventare così, così, le due coppie, coppie, due difensori su uno, e almeno, sta un po' più coperto in fase difensiva. Quindi, secondo me, lo so, sono fastidiosa di secondo me, però, McTominay, McTominay, è il punto centrale, è colui che sarà l'ago della bilancia a centrocampo. Che altrimenti che cazzo l'ha macchata da fa? Ok? Dubito che possa riproporre sia Gilmour che Lobotca, quindi due, i due playmaker, ok? Però, magari in futuro lo vedremo, magari, però per avere, però questo centrocampo più sostanzioso, e con questo McTominay, che fa la doppia fase, sia in fase di copertura, sia in fase d'appoggio, sia in fase offensiva, può essere veramente fondamentale. Ovviamente, facendo un attimo, un passo indietro, quindi ritorniamo al Monza, che fa il 5-4-1, ok, quindi un Monza molto, molto, estremamente più stretto, con Djuric unica punta, quindi 5-4-1. quando tu hai il possesso palla, per esempio con Quarascheglia, o Coppolitano, ok, cioè, entrambi gli esterni, entrambi gli esterni, sono chiusi, sono chiusi in mezzo a 4, quindi, c'è bisogno, o, c'è Lukaku, lo botca sta da dietro, anche se sta pronto a, ma, a riempire un po' l'aria, diciamo che, ok, così sarà, la sistemazione, sicuramente sarà così, quando, gli esterni, sono bloccati, o quantomeno, quando la partita è bloccata, perché Monza sarà bloccato, difensivamente, due, due occasioni, o meglio, due possibilità, per pungere il Monza, due, che sono sempre, le solite mosse, le solite possibilità, contro squadre, chiuse così, noi abbiamo anche la terza, che potremmo sfruttare, la prima, velocità, del giro, palla, devi essere veloce, devi essere, imprevedibile, devi essere, intelligente, devi passare, la palla, al compagno, più libero, prima cosa, seconda cosa, quando, la schiena è bloccato, o Politano è bloccato, qua, c'è bisogno, degli inserimenti, o di Di Lorenzo, o di Anghissà, o dall'altra parte, o di Olivera, quando, San Ricordi, San Ghi, o di McTominay, devono entrare, nel famoso buco, perché ogni buco, è per tu, ricordiamolo sempre, terza cosa, terza cosa, dobbiamo, sfruttare, la fisicità, Tenim, Anghissà, McTominay, Lukaku, in fase offensi, quando hai il possesso palla, no, per esempio, Napoli attacca, tu hai Anghissà, McTominay, Kvara possesso palla, oppure Kvara qua, Olivera qua, ok, e quindi, scegli hai, il riempimento d'aria, con i giocatori, fisici, ok, ce l'ha, ma pur ipoteticamente, Di Lorenzo, che ci ha abituato, a stare qua, su a tre quarti, se lo faceva da braccetto, figuriamoci da terzino, che Politano si allarga, e Di Lorenzo, entra nel buco, nel famoso buco, ok, però un'altra occasione, che dobbiamo imparare a sfruttare, e finalmente, stiamo imparando a sfruttare, sui calci d'angolo, nelle partite bloccate, sui calci d'angolo, il vero calci d'angolo, della bilancia, al di là di McTominay, tatticamente, se tu sai battere, i calci d'angolo, e se tu hai, i giocatori, che sanno insaccare, su calci d'angolo, parti 1-0, perché, i calci d'angolo, sono fondamentali, spero, di essere stato chiaro, spero, di avervi fatto un po', divertire, con la mia mania, di muovere, no, le pedine, e, vaiù, io ovviamente, come tutti, mi aspetto la vittoria, mi aspetto la consapevolezza, mi aspetto l'intelligenza, da parte di Conte, mi aspetto, perché no, anche qualche sorpresa, mi aspetto anche qualche sorpresa, magari, ipotizzo, magari, Conte, rimane a sta scelta, ma si, metto un gong, voglio dare ancora fiducia, un gong, al posto ripolitano, perché dopo la doppietta, col Palermo, merita la fiducia, poi, questa è una bella sorpresa, quindi, sarà una partita trappola, sicuro, perché tutti, ma io, molti la stanno sottovalutando, molti la stanno sottovalutando, molti, altri, dicono, vabbè, in Monza, che tanno sottovalutando, è la classica partita trappola, però, per fortuna, abbiamo Conte, che farà rimanere, tutti quanti, sul pezzo, fatemi sapere la vostra, con un commento, mi raccomando, sempre con rispetto, e con educazione, forza, la vorrei sempre, ciao a io, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, è la vita, con la libertà, e sempre a te.